e ciao e adesso oggi volevo scegliere una cosa e forte sta cosa come siete forti voi e fantastica e volevo scegliere una roba e questo e c'è vigno e cos'è e giallo e vuoi dire che cos'è è forte sta cosa perché alla fine è zucchero filato è semplice e allora volevo assaggiarlo perché è forte assaggiarlo guardate e assaggiamo è morbido è forte perché è morbido io allora assaggio è buono e allora giustamente voi mi direte ma è di cosa sa e io lo dico e zucchero filato qui essa di banana è il gusto di banana è forte e io vi saluto e ci vediamo prossimamente e ciao